E se non provi amore dai tutto, perché non sai quanto si sta male poi quando finisce, capito? Che è la roba più bella, ma più brutta in assoluto. Però anche quando poi stai talmente male che dici, forse sarebbe stato meglio... Tu non hai mai avuto quella roba che dici, forse sarebbe stato meglio proprio mai conoscere questa persona. Ogni volta che ho il cuore spettato dico, chi me l'ha fatto fare, no? Benvenuti a Mano sul Cuore, il nostro podcast condotto da me, Martina Mozzati, e da Lavinia Farnese, la direttrice di Cosmopolitan. Siamo oggi qui con Martina Socrate. Ciao a tutti! La nostra host di Cosmopolitan in Gintoneria, che è lo spazio a Sanremo, dove noi intervistiamo davanti al pubblico personaggi dal mondo dello spettacolo e direttamente dal palco dell'Ariston. Marti è stata con noi per qualche giorno a intervistare persone che conosceva e che invece ha avuto anche l'occasione di conoscere, anche grazie a Cosmo. Proprio perché è il nostro podcast intitola Mano sul Cuore, io volevo sapere da te se tu chiudessi gli occhi e tornassi bambina, ti saresti mai immaginata che la tua carriera prendesse questa piega o cosa ti immaginavi di diventare quando eri piccolina? Allora io ci penso spesso a questa cosa, cioè penso proprio a lei e dico, alla mia piccola e dico, cioè non avrebbe mai potuto immaginarlo, ma non perché non ci credeva, ma perché effettivamente è una cosa talmente bella, talmente nuova, talmente grande che era difficile da immaginare. Ho sempre avuto una cosa, non so se chiamarla qualità o comunque una peculiarità da quando sono piccolina, che io sin da piccola sono sempre stata sicura di cavarmela, che non è che significava diventare qualcuno, ma io proprio dicevo ogni volta che mi succedeva qualcosa di brutto, di poco stimolante, quando non ero contenta, dico, vai tranquilla che tanto poi ce la facciamo, ma sempre, ma anche tipo adesso io me lo dico con frasi motivazionali, quando sono in un movimento brutto dico, guarda che ce la fai, ce la fai sempre e quindi, cioè, questo modo di pensare mi ha aiutato a passare questi 25 anni della mia vita in maniera leggera, cioè anche durante le difficoltà, io sono sempre stata serena perché io ho sempre detto, tranquilla ce la fai, in qualsiasi outcome si ha, tu ce l'hai fatta, quindi non ti preoccupare, cioè io cerco di vivere così, ho proprio questa fiducia dentro di me, che penso me l'abbiano passata i miei genitori, però io sono sempre abbastanza serena, cioè io dico tranquilla, va male, andrà bene un'altra volta, cioè tu ce la fai, io mi dico sempre questa cosa. E c'è un momento in cui appunto il tuo cuore ha battuto a mille? Allora, ci sono dei momenti in cui mi agito, io mi agito raramente, ti dico questa cosa, di solito sono molto tranquilla anche quando sono in situazioni dove uno potrebbe dire, cavolo, non sei emozionata, non sei in ansia, così io sono molto tranquilla, tipo sul mio lavoro sono sempre molto tranquilla. Io mi agito quando mi trovo ad avere a che fare magari con persone che non sono a loro agio, cioè mi scatta quella cosa che dico... Ti senti in imbarazzo per loro? No, perché dico vorrei tantissimo metterti a tuo agio e farti sentire tranquillo, e quindi mi preoccupo di più, quindi in quel caso sia sul lavoro che nella vita insomma mia, privata eccetera, lì mi viene ad agitarmi un po', ma sono sempre comunque abbastanza tranquilla. Mi agito quando non seguo bene la mia tabella di marcia, cioè tipo quando arrivi in ritardo, cose del genere, cioè lì proprio, è come se io sono ferma in quel momento perché sono in ritardo, quindi sta passando del tempo che non posso gestire e vorrei, cioè proprio lì mi viene una roba che, non so se è ansio o frenesia, però comunque non soffro molto di questa cosa, mi viene un po' di ansia quando penso tipo al futuro in generale. Sì? Sì, io pure dei cambiamenti. Ok, ma nel senso che sei tipo una persona molto rutinaria? Sì. Ok. Cioè a me la routine mi dà calma. Ok. Che fa ridere perché c'è nel nostro lavoro zero. Nel nostro lavoro non c'era. Però comunque... Cioè ti svegli ogni giorno che non sai cosa fai. Però sostanzialmente so più o meno cosa vado a fare, cose. Quando esco dalla mia routine oppure quando dico boh chissà come saranno le cose fra un anno, lì mi prende un po' una cosa che dico, però poi penso, ce l'hai fatta per 25 anni, non devi farcela per il 26esimo o per il 27esimo, quindi vai tra, cioè questo è quello che dico io a me sempre, no? E c'è un momento in cui invece ti sei, cioè noi questa domanda l'abbiamo fatta da alcuni artisti, un momento in cui ti sei talmente spaventata o talmente magari hai vissuto un piccolo trauma in cui il tuo cuore proprio hai avuto un sussulto. Certo, certo. Allora io sono, mi vedi, cioè ci conosciamo ormai Marti, cioè Solare è sempre tranquilla, come ti ho detto non mi agito mai, ma io vado totalmente in pappa quando ho il cuore spezzato. Cioè io col cuore spezzato non capisco più nulla ragazzi, cioè perdo ogni lume della ragione. Forte due. Beh, che per i 25 anni comunque ne hai collezionate. No, cioè ve lo giuro ragazzi, ma robe che... E quante ci metti poi a riprenderti dalla... Allora, dipende, la prima volta che è stato proprio il mio primo amore che mi ha fatto tanto male, ci ho messo un po', ma perché era proprio la prima volta. E quanto eravate stati insieme? Non ero stata male quando ci siamo lasciati, ma durante non stavo bene. Cioè erano tutte queste cose che mi avevamo fatto soffrire. E lì è stata dura perché non avendo mai avuto a che fare con il cuore spezzato, è bruttissimo la prima volta, perché tu dici adesso muoio. Certo. Non lo conosci. Certo. E poi tu, essendo il primo amore dai tutto, perché non sai quanto si sta male poi quando finisce, capito? Che è la roba più bella, ma più brutta in assoluto. Però anche quando poi stai talmente male che dici, forse sarebbe stato meglio... Cioè non hai mai avuto quella roba che dici, forse sarebbe stato meglio proprio mai conoscere questa persona. Ogni volta che ho il cuore spezzato dico, chi me l'ha fatto fare, no? Poi vabbè, passa il tempo e dici, no, è falsa la pena. Esatto, è falsa la pena. Però io in quelle situazioni proprio non capisco nulla e vedo tutto nero. Ecco lì, non penso, ce la fai tranqui. Cioè c'è la voce che me lo dice, però è nella parte della mia corteccia celebrale, molto in superficie. La parte profonda del cervello non ci crede a questa roba, quindi vado proprio in parico. Beh, ma forse perché quando riguarda i sentimenti quella cosa lì non la puoi controllare. Esatto. Cioè se riguarda il tuo percorso professionale poi sei tu che puoi un po' costruirtelo. Sì. Quindi lì è proprio quel momento in cui io infatti spero sempre, dico, spero di non stare male per amore, perché sennò io vado proprio insieme, vado insieme e non riesco più a fare niente. E l'ultima volta quando ti è successo? Ah, marzo dell'anno scorso. Ah. Quindi recente. Eh, recente, quindi... Ma siamo sopravvissuti? Still here. Still here. E come va il tuo cuore adesso? No, adesso molto bene. Bene. Cioè sembra un cliché, ma poi quando sei in quella situazione talmente brutta che dici non ci uscirò più, poi ridi proprio quando ci ripensi e dici ma certo, vedi, è sempre quello, vedi che ce la fai, non ti preoccupare. Nel bene e nel male ne esci in qualche modo. Sì, adesso molto... Porta male dirlo, però hai capito, bene. Esatto. E come ti vedi anche in futuro, senza metterti l'ansia che dicevi, ma invece il riguardo proprio alle persone che ti circondano, le persone a te care, appunto parlando di cuore. Cioè tu vedi, hai una rete di persone che pensi che saranno sempre vicino a te, ti senti sostenuta? Allora, sicuramente io ho una famiglia che mi supporta tantissimo, abbiamo un bel rapporto quindi vabbè loro sono tutto per me, poi vorrei che mio fratello adesso, mio fratello più piccolo, adesso finisce la scuola che mi seguisse anche di più dal punto di vista lavorativo, cioè il mio sogno sarebbe che lui diventasse il mio PA, cioè tipo il mio personal assistant, ma perché è la persona... Un'impresa familiare. Sì, no, ma è proprio la persona con cui innanzitutto mi diverto di più, che mi capisce di più al mondo forse. Quindi non ci sarebbe neanche bisogno di dirsi le cose. E di cui io mi fido più ciecamente in assoluto, insieme ai miei genitori, però lui è proprio... Poi è sveglio, mi piace, quindi proprio vorrei portare questa rete di supporto nel mio lavoro, che già c'è un po', perché tipo mio papà mi segue una parte, vorrei mio fratello, poi mi piacciono molto le persone con cui lavoro adesso, cioè ce n'è qui una ma non lo dico apposta, e mi sento molto supportata anche in questo senso, poi ovviamente ci sono i miei amici, persone che mi vogliono bene, diciamo che io ho proprio degli amici da sempre, già da sempre, i miei amici del liceo, e loro ci sono proprio sempre, 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 e spero di portarmi avanti perché facendo un lavoro che ti fa volare così tanto, viaggiare così tanto, e è difficile a volte fermarsi e realizzare, loro mi riportano i piedi per terra, ma non perché mi dicono non te la devi tirare, ma perché proprio io esco con loro e parliamo di cose normali, non parlo, non sono nell'ambito del mio lavoro, è proprio un ok, e refresh, esatto, tipo refresh e ricomincio, e quindi loro sono proprio la mia rete di comfort che mi riportano alla realtà, quando non ho bisogno mi supportano quando mi vedono in difficoltà, perché io tendo a non chiedere aiuto purtroppo. E se potessi, chiudiamo con una domanda che appunto è venuta in mente quando tu parlavi di tuo fratello, se tu potessi dirgli qualcosa che non gli hai mai detto, o che pensi che adesso gli farebbe bene sentire, o che farebbe sentire, che farebbe bene a te a dirgli, cosa ti diresti? Allora, gli direi, noi non siamo sdolucinati, quindi ti capisco, spesso viene lì, lui è più fisico, mi viene ad abbracciare, eccetera, io faccio fatica ad abbracciarlo perché io cosa abbraccio a fare, che ti voglio bene vada lontano, esatto, no, però gli direi che senza di lui mi mancherebbe una grande parte della mia vita, e io spesso mi faccio dei pianti quando penso che i miei genitori e la mia famiglia un giorno è come tutti moriranno, e dico io non ce la potrei mai fare, ma anche con lui, a volte penso, oddio, magari un giorno non c'è più come faccio, mi sento proprio persa, quindi grazie che ci sei. Grazie di essere vivo. Grazie di essere vivo, stacci, stai vivo, grazie. Grazie Marti, e ci vediamo più tardi poi per le interviste in Gintermedia. Grazie, grazie. Grazie a te.